Buongiorno Daedo, vi informo che questa è la prima e anche l'ultima puntata di questa settimana perché ci sono così tante cose da fare e così poco tempo e prima di fiondarmi nelle news che ho selezionato per oggi vi informo che è uscita da poco su tutte le piattaforme di podcast ma anche su YouTube la puntata che abbiamo registrato ieri pomeriggio di Continuous Delivery in cui chiacchieriamo con Michael Di Prisco quindi se vi interessa il progetto che sta portando avanti Michael che si chiama Il Libro Open Source che è un titolo provvisorio in attesa del definitivo è un progetto comunque molto interessante dove sono coinvolti varie figure di spicco del panorama IT italiano che contribuiscono a questo che sarà un vero e proprio manuale, un libro totalmente open source, scritto su GitHub e contribuito dalla community insomma dategli un'occhiata, è appunto su GitHub e lo trovate ancora con questo nome quindi se cercate Il Libro Open Source lo trovate seguite Michael Di Prisco sui social per vedere un po' quali sono le evoluzioni del progetto e di cosa parlerà e se volete sapere un pochino più nel dettaglio di cosa si tratta guardate appunto la puntata di Continuous Delivery proprio di oggi che insomma la spiega un po' meglio la spiega Michael stesso e insomma gli facciamo un po' di domande chiacchieriamo un po' con lui su questo progetto prima ancora di fiondarmi nelle news solo un grande augurio, un grande in bocca al lupo al grandissimo Richard Stallman che ha annunciato di avere il cancro quindi di stare insomma cercando di curarsi naturalmente la chemioterapia l'ha profondamente mutato nella sua estetica perché sapete che l'estetica di Stallman è iconica i lunghi capelli, la barba folta lunga ecco questa che ormai è un'iconografia ora a causa appunto della chemioterapia non c'è più però lui è sempre lui, è sempre lì è stato in Svizzera davanti alla platea di persone a festeggiare il quarantesimo anniversario di GNU come dicevamo la settimana scorsa e quindi è sempre qua ed è sempre in grado di contribuire pienamente alla Free Software Foundation quindi queste sono le sue parole la malattia che ha ha un avanzamento lento a quanto dice ed è tenuta sotto controllo quindi insomma gli auguriamo tutto il meglio ecco questo soltanto volevo dire continua a combattere insieme a noi insomma grande RMS oh non c'è modo più frizzante per iniziare la nuova puntata di questo podcast che parlare di NFT vi ricordate degli NFT? no perché è un po' che non se ne parla no? perché da quando era un argomento sulla bocca di tutti che fossero informatici, appassionati gente interessata alla speculazione ecco gli NFT sembravano il futuro il traguardo a cui tutti dovevano mirare e in particolare insomma un paio di anni fa avevano raggiunto una dimensione di mercato notevole bene oggi che ne è rimasto? che ne è stato di quel mercato? praticamente nulla la bolla è esplosa ha fatto le sue vittime e non è rimasto più niente ma niente in concreto che cosa vuol dire? ce lo dice il sito Dapp Gamble che è un sito che si occupa di cripto scommesse gaming, NFT appunto insomma è un po' un sito di news che riguardano questo settore e insomma è anche un settore in cui credono apparentemente nonostante questo hanno condotto una ricerca abbastanza approfondita sullo stato del mercato degli NFT e i dati sono abbastanza interessanti iniziano a parlare di quanto era florido e grosso il mercato NFT nel 2021 in particolare nell'agosto del 2021 il mercato valeva 2,8 miliardi in scambi mensili quindi il volume degli scambi mensili era a questo livello ebbene lo stesso dato il volume degli scambi a luglio 2023 era di 80 milioni di dollari quindi è il 3% di quel valore in due anni il valore è passato da 2,8 miliardi di dollari a 80 milioni di dollari negli scambi quindi praticamente questo è l'esplosione totale dal picco di quell'anno a adesso la caduta totale di questo mercato i dati però ci sono sono dati che ha fornito NFT scan dati sugli scambi sul valore delle collezioni di NFT ebbene su questo articolo che trovate su Dapp Gamble c'è un'analisi di più di 73 mila collezioni di NFT sono per l'esattezza 73.257 per vedere un po' a che punto sono allora di queste collezioni 69.795 valgono esattamente 0 Ether cioè la valuta sulla blockchain di Ethereum sapete che gli NFT stanno tipicamente sulla blockchain di Ethereum e quindi la stragrande maggioranza di queste collezioni hanno valore 0 e questo statisticamente significa che circa il 95% delle persone che posseggono NFT hanno in mano niente non hanno assolutamente niente ci sono dei grafici poi che fanno vedere anche il valore di queste collezioni allora poi l'articolo prosegue facendo vedere la disparità, lo squilibrio tra l'offerta di NFT sul mercato e la domanda cioè ci sono un sacco di collezioni che rimangono invendute un sacco di collezioni che vengono create e messe sulla blockchain Ethereum che non hanno acquirenti che nessuno compra e quindi questo mercato è un mercato altamente speculativo e tutto questo ha un impatto naturalmente sull'ambiente perché? perché la creazione di NFT consuma energia il processo di mintare minting così si definisce il processo di creare un NFT e di firmarlo di metterlo sulla blockchain ecco coinvolge delle tecniche criptografiche che consumano energia e c'è un calcolo che fa vedere quanta energia effettivamente consumano gli NFT quindi questo studio sull'analisi di 195.000 più di 195.000 collezioni ha rilevato che l'energia per mintarle queste collezioni è approssimativamente di 16.243 tonnellate metriche di CO2 per dare una comparazione questo è equivalente all'emissione annuale di 2.048 case o all'emissione annuale di 3.531 auto o il carbon footprint quindi il calcolo delle emissioni di andride carbonica di 40.061 passeggeri che volano da Londra in Inghilterra a Wellington in Nuova Zelanda quindi insomma questo è più o meno per farvi capire l'impatto ambientale di questa roba infine l'articolo guarda alle 8.850 collezioni NFT top quindi quelle che valgono di più quelle che valevano di più insomma nel mercato le migliori collezioni NFT bene di queste il 18% di queste hanno valore zero quindi non valgono niente inoltre il 41% di queste hanno un valore tra 5 dollari e 100 dollari e meno dell'1% hanno un valore di più di 6.000 dollari quindi questo è un po' meno per capire in che stato è questo mercato e siccome appunto questo è un sito che crede nelle cripto e crede negli NFT la conclusione dell'articolo è che secondo loro appunto secondo l'autore l'NFT ha un futuro ha ancora un futuro e il mercato è un mercato speculativo che comunque dovrà sparire e sparirà ma l'NFT deve essere storicamente rilevante queste sono le parole che usano e fa un paragone con le carte Pokémon gli NFT per chi conosce e gli paragona anche a vera arte o vera utilità ecco, genuina utilità quindi si ritorna un po' ancora nel secondo me inganno di credere che NFT abbia davvero una qualche utilità pratica rispetto invece alle altre tecniche informatiche e di manipolazione dei dati e di firma e di criptografia che già conosciamo che stiamo comunque continuando a evolvere e che hanno un impatto minore sull'ambiente e un impatto sicuramente minore sul mercato speculativo quindi questa è la conclusione dell'articolo credo che da questi dati possiamo trarre conclusioni un pochino diverse però insomma mi sembrava interessante e divertente condividerlo oh, e ora parliamo finalmente del mio browser preferito che è ARK state usando ARK? non state usando ARK? se non state usando ARK malissimo andate a cercare ARK Browser che è un browser creato da una compagnia che si chiama The Browser Company sono probabilmente hanno il mio stesso livello di creatività probabilmente questi qua hanno chiamato la loro compagnia The Browser Company va bene e vabbè ARK non ve lo sto tanto a descrivere è un browser è molto figo ha un tipo di approccio alla navigazione alla gestione delle tab alla gestione dell'interfaccia molto innovativo rispetto alla gestione tradizionale e non solo perché mostra le tab in verticale ecco cosa che potreste fare anche con Chrome o persino con Firefox twiccando un pochino ma no ha una serie di altre di altre innovazioni soprattutto nel modo di interfacciarsi di dare input al browser non ve lo sto a spiegare ma andate a guardare se non lo conoscete se invece lo conoscete probabilmente sareste anche a conoscenza del fatto che ieri sera ARK aveva annunciato un evento un evento in streaming su YouTube dove avrebbe appunto parlato di nuove feature di ARK e inizialmente si pensava che queste nuove feature riguardassero l'uscita su Windows ma subito il team ha precisato che non riguardavano questo quindi queste novità queste notizie riguardavano un'altra cosa e allora le speculazioni andavano nella direzione dell'intelligenza artificiale adesso faranno l'integrazione con l'AI nel browser e questi rumor si sono accumulati un po' io non volevo inizialmente crederci pensavo in realtà che si parlasse di monetizzazione cioè di come rendere monetizzabile e sostenibile questo business ma in realtà i rumor avevano ragione avevano ragione si è parlato di AI e si è parlato di come ARK browser intende integrare l'AI nel proprio browser questo programma questo è un nuovo programma a cui si può accedere perché è opt-in si chiama Max e offre appunto un po' di feature che riguardano l'AI se andate sul sito ARK.NET slash Max trovate insomma tutti i dettagli di che cosa contiene questo aggiornamento Max con anche i filmatini che vi fanno vedere in anteprima che cosa sono ma io mi vado a vado a sfruttare un articolo di The Verge che parla appunto di questo aggiornamento tra l'altro intervistando il designer di Browser Company che è Nate Perrot che gli ha mostrato queste feature e anche altre che sono in preview quindi l'articolo contiene in realtà un sacco di altre prove che ARK ha fatto di altri prototipi che ARK ha fatto che includono AI ma che non sono parte di questo aggiornamento Max l'aggiornamento Max in pratica contiene 5 punti fondamentali e tutti sono AI powered in particolare sono forniti da una combinazione di GPT 3.5 e Antropic sapete che Antropic è un'altra start-up che ha progetti di AI generativa e Large Language Model le 5 cose sono Ask ChatGPT che è quello che quello che dice il nome praticamente aprite una finestrella e fate una domanda e ChatGPT 3.5 vi risponde e questa come dice anche l'articolo è la cosa meno interessante diciamo che è quello che già potreste fare con un'estensione ChatGPT su qualunque browser però poi c'è TidyTabTitles che cos'è? allora quando voi pinnate una tab chi usa ARC sa cosa vuol dire in pratica la mettete nelle tab che non si chiudono mai ecco qua questa feature fa sì che il browser rinomini la tab in modo che voi possiate capire che cos'è quindi non prende il title della tab di default ma gli dà un nome significativo per farvela ritrovare più facilmente e poi c'è TidyDownloads che fa la stessa cosa ma con i download quindi quando voi scaricate un file il file viene rinominato nella tab dei download in modo da farvi capire che cos'è quel file che descriva meglio che cos'è quel file poi c'è 5 seconds preview mettendosi sopra un link e tenendo premuto shift ARC genererà una piccola anteprima di quel link con anche un piccolo sommario di quello che la pagina rappresenterà quindi tutto questo anche generato dall'AI un po' che fa wikipedia sui link interni una piccola anteprima della pagina wikipedia una sorta di cosa di questo tipo e in ultimo c'è ask on page quindi quando sei su una pagina e premi command f per andare a cercare appunto una stringa nella pagina ecco se quella stringa non viene trovata nel testo della pagina allora RKI viene interrogata per darti delle risposte su quello che stai cercando che però non sono direttamente nel testo della pagina lo stesso Nate Perrot poi risponde a The Verge dicendo che la ask on page è un ottimo esempio di come l'AI può essere integrata in un browser senza andare a pesantire l'esperienza utente e quindi spiega di come per esempio si è interessato a scoprire a sapere che cosa fanno i millennial in Mongolia non so perché ma la Mongolia apparentemente è un esempio che ritorna spesso in quello che fa ARC per qualche motivo quindi sta leggendo una pagina che descrive la Mongolia che riguarda la Mongolia e gli viene in mente di sapere che cosa fanno i millennial in Mongolia quindi digita command F cerca millennial millennial non è nella pagina e allora il contenuto il contesto della pagina viene passato alla AI di ARC che elabora e poi risponde e ti dà delle informazioni su quello che fanno i millennial legati alla Mongolia ecco e questo è un modo per arricchire la ricerca di informazioni sul web ci sono poi nel proseguo dell'articolo che vi invito a leggere se vi interessa altri esempi di prototipi che ARC stava sperimentando per integrare le AI nel primo momento ci sono questi cinque poi naturalmente si parla anche della possibilità per un browser di conoscere gli interessi la history e tutto quello che riguarda appunto l'esperienza dell'utente quindi di quanto possa personalizzare la risposta di un AI in base proprio al profilo dell'utente e questo secondo me solleva anche qualche piccolo dubbio riguardo alla privacy perché sono veramente tante le informazioni che il browser conosce su di noi e fidarci così tanto di passarle interamente a un large language model insomma secondo me bisogna un attimino pensarci ma comunque lo stesso Pirot poi dice che ci sono c'è questo tipo di preoccupazione ma le features sono assolutamente opt-in quindi non vengono attivati di default e chiunque può decidere se aderire o no se entrare o no in questo programma max insomma questa era un po' la novità di ARK che hanno comunicato ieri sera io sono contento di vedere che ARK continua ad evolvere la feature la proverò poi non so bene se la terrò attivata tra l'altro ARK stesso ha detto che queste feature resteranno per 30 giorni in una diciamo preview in questo stato di preview e poi gli utenti della community voteranno quali saranno le feature da mantenere quali da spegnere eccetera e poi naturalmente ARK è soggetta anche a limiti nel nel numero nella frequenza di domande a questi modelli senza dover incappare in spese elevatissime perché ricordo che ARK è tuttora un prodotto gratuito e anche queste feature su max sono gratuite non c'è un pricing model quindi poi saranno scelte quali mantenere e ipoteticamente verrà introdotto anche un pricing model per questo tipo di feature chiamiamole premium ecco delle feature premium che potrebbero essere attivate in maniera volontaria dall'utente e far parte anche di un di un programma di un subscription model un pochino più elaborato staremo a vedere comunque ARK browser numero 1 e continuando a parlare di AI la faccio un po' lunga oggi ma c'è una notizia interessante che volevo condividere il CEO di OpenAI che è Sam Altman naturalmente apparentemente sta conversando con Johnny Ive che per chi non lo conosce è un ex designer di Apple l'ex chief designer di Apple cioè responsabile del design di prodotti iconici come gli iPod gli iPhone gli iMac i MacBook insomma Johnny Ive è uno degli elementi dietro al design canonico di Apple che conosciamo oggi e poi ha lasciato Apple nel 2019 quindi apparentemente questi due Sam Altman e Johnny Ive sono in trattative per fondare una nuova azienda o per creare un nuovo prodotto non si sa ancora bene comunque creare qualcosa e questo qualcosa dovrebbe essere supportato finanziariamente economicamente da Softbank Softbank lo conosciamo bene perché Softbank è la compagnia che sta dietro a ARM detta meglio è la compagnia che possiede ARM possiede la grande maggioranza di ARM circa il 95% dopo che ARM si è quotata in borsa non si sa bene che cosa è che vogliono fare Sam Altman e Johnny Ive però conoscendo il background di entrambi la cosa sicuramente riguarda l'AI e la cosa sicuramente riguarda un device fisico perché è quello che fa Johnny Ive e si ipotizza che i due vogliono costruire qualcosa che permetta un'interazione con l'AI in una maniera innovativa diversa dal solito qualcuno ha descritto l'iPhone dell'Artificial Intelligence il Financial Times in particolare l'articolo di The Register descrive soltanto queste trattative in maniera un pochino sommaria e ne parla come se fossero in uno stato serio ma non ci sono ulteriori dettagli su Ars Technica c'è un altro articolo che aggiunge qualcosina e fa riferimento a parole di Jessica Lessin e Stefani Palazzolo su The Information che dicono che pensando al coinvolgimento di Ive dovrebbe trattarsi di un device consumer quindi di un prodotto destinato al mercato consumer che in qualche modo possa far immaginare a un smartphone reimmaginato e invece su un altro articolo di The Verge si va a fare riferimento a un device che promuova o che proponga una user experience più naturale e più intuitiva per interagire con l'artificial intelligence comunque vedete questo è tutto quello che si sa finora non si sa molto non si è carpito molto però le informazioni che abbiamo sono queste sono coinvolti Sam Altman e Johnny Ive probabilmente verrà fuori un device un qualcosa che ci permetta di interagire con le AI e come investitore di primo piano ecco c'è SoftBank quindi un grosso gruppo giapponese che ha già interessi in ARM e che insomma a cui non manca la liquidità diciamo così quindi le trattative paiono essere solide vedremo che cosa avverrà fuori seguiremo due ultime cose velocemente parlando di mercato di trattative nel mondo di AI su NeoWin ho trovato un articolo che parla di investimenti di Amazon in Antropic Antropic l'abbiamo proprio citata prima è un'altra delle start up che propongono AI generative concorrente diciamo di OpenAI sapete che in OpenAI c'è un grosso investimento da parte di Microsoft bene oggi in Antropic c'è un grosso investimento da parte di Amazon e l'investimento è di 5 miliardi di dollari quindi non bruscolini ecco il deal nel dettaglio parla di un'iniziale quota di minoranza in Antropic del valore di 1.25 miliardi di dollari che acquisirà appunto Amazon con l'opzione di aumentare questo investimento di altri 4 miliardi poi appunto si dettaglia che Antropic detiene questo prodotto sull'AI generativa che si chiama Cloud questo modello di AI che si chiama Cloud e che come parte di questo di questo accordo Antropic userà i servizi di AWS quindi Amazon Web Services per appunto i suoi i suoi servizi in cloud come cloud provider principale e in ultimissimo siccome avevamo parlato della vulnerabilità piuttosto grave di WebP di Lib WebP in realtà che sta alla base del formato di immagini WebP una delle scorse puntate vorrei riagganciarmi a quel tema con un articolo che secondo me è molto ben scritto ci dà un contesto ancora maggiore ci fa fare qualche riflessione l'ho trovato su dday.it quindi un articolo in italiano a firma di Roberto Pezzali che parla proprio di questo e vi leggo un po' qualche estratto insomma ci inizio un po' con un recap di quello che è successo le scorse settimane Apple ha rilasciato un aggiornamento dei suoi sistemi operativi perché su segnalazione di Citizen Lab dell'Università di Toronto si è accorto che effettivamente c'era chi stava sfruttando attivamente una falla non sappiamo esattamente chi ma sappiamo che la falla negli ultimi mesi è servita per installare lo spyware Pegasus sui dispositivi dell'azienda si parlava di una di un ente di cyber security non meglio definito forse un ente governativo prosegue l'articolo Apple nella descrizione della falla è stata molto generica parlava di una generica buffer overflow e chiudeva dicendo che Apple era a conoscenza che questa falla era attivamente sfruttata a quel punto Apple è intervenuta e ha chiuso la falla nei giorni successivi prosegue l'articolo Google ha fatto qualcosa di simile ha chiuso una vulnerabilità di Chrome che riguardava proprio il buffer overflow durante la lettura delle immagini in formato WebP ed è quello di cui abbiamo parlato Google poi ha ringraziato l'assegnazione dell'Apple Security Engineer in Architecture e il Citizen Lab dell'Università di Toronto non serve fare uno più uno dice questo articolo la falla che ha chiuso Google è la stessa che ha chiuso anche Apple non era una falla di Image.io la libreria appunto di Apple e iOS ma una falla delle librerie open source usate da Image.io ovvero LibWebP e questo ha creato un problema enorme perché ogni sistema operativo ogni app e ogni dispositivo compatibile con il formato WebP usa questa libreria che quindi è una libreria con una vulnerabilità sfruttata attivamente purtroppo per come sia Google che Apple hanno gestito questo problema soprattutto a livello comunicativo aggiungo io tutti hanno pensato che si trattasse non solo di due problemi distinti ma di problemi legati a versioni specifici dei sistemi operativi ma non era così Google si è preoccupata solo di Chrome perché secondo lei la maggior parte delle aziende usano versioni personalizzate di LibWebP pertanto alcune di queste potrebbero non essere vulnerabili e Apple è tra queste aveva il suo fork di LibWebP che era vulnerabile ha chiuso la falla senza preoccuparsi del ramo principale chiude l'articolo nel momento in cui scriviamo stanno arrivando le prime patch ma ci sono ancora tantissimi software di primissimo livello ad esempio Teams che ancora non sono stati aggiornati mi sembrava interessante aggiungere a quello che sapevamo su WebP anche questo articolo di Roberto Pezzali che ringrazio consiglio di andare a leggere ci sono altri dettagli ulteriori poi D-Day magari seguirà ulteriormente questa vicenda e noi magari se ci saranno sviluppi saremo qui a raccontarli e invece questa la terminiamo qui grazie per avermi seguito come dicevo ultima puntata della settimana nonché prima perché poi ho altre cose da fare sarò impegnato nei prossimi giorni tra l'altro vi informo già che la settimana prossima ci saranno sicuramente poche puntate perché anche qui avrò robe da fare e in particolare ciò degli eventi da fare a Bologna sarò al Container Day e al DevSecOps Day a fine settimana quindi se siete a Bologna siete in imparaggi mi troverete lì basta che altro c'è da dire fate bravi controllate le vulnerabilità nelle vostre librerie e tornate qui quando ci sarà un nuovo episodio del Buongiornissimo ciao